Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio della Edgecraft. Ebbene sì, siamo nuovamente in compagnia di questa custom map parkour che nella scorsa puntata tutto sommato non ci ha dato dei grossi grattacapi, ma sicuramente col proseguire della partita aumenteranno le difficoltà. Partiamo quindi subito con la puntata di oggi. Ed eccoci qui ragazzi, esattamente nello stesso punto dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio, proseguiamo quindi con la nostra partita. Oh mamma mia ci sono già dei nemici, quindi dobbiamo andare da questa parte e anche da quest'altra parte ragazzi, dove bisogna andare, qui bisogna seguire il rosso, qui vedo del rosso, quindi se io vado di qua e ma se vado qua mi ammazzo, ma io devo buttarmi giù da qualche parte perché se no muoio, magari devo andare di qua. Sentite ragazzi, io mi butto giù, qua dovrei morire, non dovrei morire, ok. E qui c'è la scala rossa, ok ragazzi, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ah, un inizio abbastanza, abbastanza movimentato, eh. Qui c'è la scala parallela, l'altra era quella verde. Dunque qua si può salire ancora, ma io uscirei da questa porta. Ma sì, usciamo da questa porta. Chiudiamo prima che arrivino altri nemici. Bisogna andare da questa parte e poi da quest'altra. Sento ancora dei nemici vicino. oh, 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 oh. Mamma mia ragazzi, qua la vedo dura, eh. Mangiamo. Qua la vedo dura. Proviamo. Ok, primo salto ce l'abbiamo fatta. Adesso saliamo di qua. Credo di qua, sì. Secondo salto da compiere Bello lungo questo qua Vediamo un po' se ce la facciamo Opla Sì ce l'ho fatta Adesso da che parte do andare Ehi ma ragazzi qua Siamo proprio in bilico Guardate qua quanto è alto Aiuto Adesso devo salire lì e come faccio? Faccio il salto, faccio il salto, faccio il salto Adesso qua devo arrampicarmi lì E anche questo non è così banale Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Nuovo salto No ma dai si sta facendo complicata la situazione Ma vediamo di saltare bene No 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 non avevo preso la rincorsa Ecco 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 Ho sbagliato ho sbagliato ma sono sopravvissuto Ho sbagliato ma sono sopravvissuto Ok 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 Mamma mia Comincia ad essere complicato Il percorso Il percorso complicato Ok Vediamo se ci riusciamo Secondo tentativo Bene bene ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Adesso saliamo qua E immagino da quest'altra parte Benissimo Ok e adesso No eh Oh Sì vabbè Ciao eh Ragazzi La edgecraft Finisce qua Ma come faccio ad arrivare lì Dai 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 Ragazzi ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta Sono un grande Sono un grande Sono un grande Ce l'ho fatta Uh la porta La porta La porta Oh no ci sono ancora i nemici Scappa scappa i nemici Scappa Ragazzi qua cosa c'è Dove devo andare Da questa parte Sì qua c'è il rosso Ok Uh No ragazzi è troppo È troppo complicata È troppo complicata È troppo complicata Ok Bene qua Sì da questa parte Ma perché no Ma perché no Ma perché no Passiamo di qua Beh a questo punto vado di qua Opla Et voilà Di qua non c'è niente No E quindi devo salire da questa parte Uh Che fatica Che fatica ragazzi Che fatica Porta Anzi leva Oh oh Cos'è Oh è l'ascensore E come si fa dunque vado qua Non è che Ah no non si No no Pensavo fosse più profondo Quindi devo saltare Su quel Tubo qua E poi vediamo Adesso sto attaccato qua E devo andare lì E come ci arrivo lì Saltando così 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 Da questa parte Da questa parte Ok di qua Uh Mamma mia No penso che devo andare di qua Bene Sì Ottimo Si sale Si sale Si prosegue Ragazzi Si sale da questa parte E si arriva Questo è rosso Però qui La vedo Difficile Cos'è questo Eh Eh E come lo faccio io qua Vabbè Iniziamo a salire qua Qua non posso salire Ma devo salire lì Ah bene Ah bene Ah bene Bene Ottimo Facile Easy Easy Ok Uno Due Tre E quattro E adesso No è ancora troppo lontano Ah no di qua Di qua Mamma mia ragazzi Che difficoltà Che difficoltà Da che parte devo andare qua E ovviamente qua Oh sì Adesso qua Ce la faccio saltare qua Sì 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 Qui lì No No Ah ok Vediamo se ce la facciamo Oh no Adesso comincio ad avere Momenti di Di mancamento Dai Perfetto Ah no forse devo andare Ah no ho capito ragazzi Di qua Devo andare Devo andare di qua Di qua Di qua Non cadere Benissimo Ah sono un grande Sono un Grande Grande Da che parte si va Qui E ma qui No qui non credo Qui si può guardare la vista Ma da qua no E ma come salto No dai Non ce la farò mai Da qua Sì ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Ma sono caduto male No Devo rifare tutto Ragazzi Devo rifare tutto Devo rifare tutto No Devo rifare tutto Durerà cinque ore Questa puntata Ok Ok No Devo rifare tutto Da qua Adesso Bene ragazzi Credo che questo Sarà il primo Stacco che faremo Ci rivediamo Quando riesco A risalire lì Facciamo il primo Stacco Ok ragazzi Ci ho messo un po' Di tempo Ma sono riuscito A tornare qua Adesso vediamo Di non sbagliare Nuovamente Questo salto Opla Opla Ce l'ho fatta Ok ce l'ho fatta Bene Meno male va Quanto mai Mi sono Mi sono Messo a fare La edgecraft No sto scherzando Mi piace molto Questa mappa E' anche interessante Perfetto Vediamo di fare Un bel salto lungo qua Mi sto divertendo Anche se Sbaglio Ma voi Mi perdonate Di questi sbagli Torniamo su Un'altra volta Allora Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Mangio Perché devo mangiare E recuperare forze E qui ci vuole un salto Bello lungo Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Perfetto Ora penso che io Deba salire sulla gru Con calma Saliamo in alto Sulla gru Qua cosa devo fare Direi che non è un gioco Per chi soffre di vertigini No Di qua non mi butto Perché muoio Di qua Potrei buttarmi Da questa parte Ragazzi Ma si proviamoci Dai Ok Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bene Adesso Vediamo un po' Devo andare Di qua No Perché ho paura Che Ci sono i tubi Ma sono corti E di qua Vedo la porta rossa Ah C'è un altro tubo qua Bene Allora andiamo giù Ma non buttiamoci Ma non buttiamoci Quindi qua scendiamo Da questo tubo Che prima o poi Temo finirà Ma io come faccio Arrivare lì Mi sa che devo fare Una cosa del tipo Che io Mi lancio così E spero di non morire E non sono morto Ragazzi Non sono morto Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Porta Porta Perfetto Scendiamo Altra porta rossa Porte rosse Allora di qua Di qua c'è un balcone Qui ce n'è sotto un altro Ma non mi sembra Che si possa fare granché Quindi direi Di non andare di qua Da questa parte Anche qui Stessa cosa Balcone E mi sembra che non bisogna fare niente Quindi L'unica È scendere ancora Proviamo Scendiamo Ah ok Altre due porte Allora di qua Altro balcone Ma ah ok Siamo a quello Che abbiamo visto Sopra Quindi anche qua Penso che sia questa la strada Visto che è tutto rosso Sì sì È sicuramente quella Quindi dobbiamo scendere di qua Ragazzi Perfetto Questa è una tromba delle scale Veramente infinita Benissimo Prima o poi finirà Ok Ce l'abbiamo quasi fatta Ragazzi Ce l'abbiamo quasi fatta E ce l'abbiamo fatta Siamo arrivati in fondo Uh Ambiente verde Attenzione che qua Prima c'erano i nemici Quindi corriamo un po' Da che parte Di qua Altra porta rossa Altro balcone E qui Da questa parte Non si va Di qua non si va Tu vuoi dirmi che Devo saltare lì Interessante Proviamo Oh Olè Olè Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mamma mia ragazzi Oh Che fatica Che tensione Che tensione Allora andiamo di qua Adesso qua Come faccio Mi posso buttare Però Ah no no C'è il tubo C'è il trucchetto Ok E questi chi sono Questi non mi sparano No Sono i villici Quindi non dovrebbero spararmi Salve Molto piacere Però io dovrei Fare il parkour E devo andare di qua E lo so Devo andare di qua E lo so E di qua Da che parte Io scenderei Però pare così E così Qui Ah no Forse questo è un blocco Sì È un blocco Ah ecco qui vedo un tubo Scendiamo Allora scendiamo 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 Ragazzi guardate Qui c'è una piazza Bellissimo Allora da che parte si va Di qua Adesso mangerei ancora Altrimenti Non ho più le forze Hmm No Di qua no Forse di qua Vediamo un po' Nemmeno Allora mi sa che Non è questo il punto Dove devo andare Mi sa che Mi hanno buggerato Ah ok Andiamo di qua Ah ecco Visto una piattaforma La rossa Adesso qua non so Posso camminare Sì Però andiamo lo stesso Così Perfetto ragazzi Forse siamo Sulla strada giusta Siamo sulla strada giusta Dobbiamo saltare lì Sì dai Questo è un salto facile Beh insomma Ho rischiato Ho rischiato Ragazzi ho rischiato Ma ce l'abbiamo fatta Adesso Di qua Boh Di qua Di qua ragazzi Di qua Salto bellissimo Perfetto Si scende Si scende Ragazzi si scende Mamma mia anche oggi Puntata difficile Qua Oh Mi faccio male No Siamo arrivati in fondo Ok ragazzi Siamo arrivati in questa piazza Vediamo un po' Cosa c'è Un sacco di villici Guardiamo un po' Questa piazza Molto molto bella Guardate È fatto benissimo Veramente questo mondo È fatto veramente benissimo Di qua No Cosa sono questi Boh Sembrano dei lavandini Non so Questo Scappa Da questa parte Niente È una piazza enorme Molto bella Molto bella Ma io ho visto Del rosso di là Quindi andrei Da quella parte Anche qui Cosa c'è scritto Do not Steps on the flower Quindi non camminare Sui fiori Ok Non cammino Va bene Non cammino Sui fiori Vado verso il rosso Ecco lì Mi sa che dobbiamo Salire da questa parte Vediamo un po' Se dobbiamo salire di qua Direi proprio di sì Direi proprio di sì Quindi proviamo Dai Allora di qua Poi Mamma mia ragazzi La vedo difficile Questa parte Ok Adesso devo arrivare lì Quindi di qua Di qua Di qua Non devo fare cose strane Lì E penso di sì Oh No 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 Forse non ce la faccio No è impossibile Di non farcela E però E però No dai Devo saltare qua No Dove vado di lì No no È qui che devo saltare ragazzi Ma Devo farla al limite Se non corro Ok 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 Ma sono saltato giù No Oh Una cassa Ah ho trovato altre Altre di queste Bene Adesso No Si deve rifare tutto da capo Va bene ragazzi Credo che questo punto Lo facciamo nel prossimo episodio Questo pezzo Visto che È ancora Abbastanza complicato Spero che Anche questa puntata Vi sia piaciuta Naturalmente Come al solito Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo episodio Ciao a tutti